ciao e benvenuti a un nuovo video allora oggi intanto mi scuso per l'ecicale ma cerco di tenere il microfono più vicino possibile in altro momento non è assolutamente possibile fare il video soprattutto visto il caldo quindi andiamo adesso allora apriamo insieme la box di blissim questa è la versione francese che fa luglio e agosto quindi fa due mesi anche perché con le spedizioni se non è più estivo sarebbe impossibile il prezzo è diverso 36 euro e 90 ma ricordiamoci che è di due mesi non ho fatto niente se non togliere i dati personali quindi adesso andiamo a vedere insieme e iniziamo ad aprirla sapete che c'è anche la versione italiana ma pensavo di aprire in un altro video anche perché immagino che ci siano più prodotti allora solito foglietto con il solito qr che adesso andiamo a scansionare subito così vediamo i prezzi la box è questa qui vedo alcuni prodotti singoli e qui dentro una plastica andiamo a vedere quelli della plastica inizialmente appoggio perché se no è pesante allora nella plastica ci sono questi tre e credo che siano quelli che si possono disperdere aspettate vedo un'altra cosa sul fondo che carina è una borsa anche bella grande molto grande tipo una shopping bag o qualcosa adesso la faccio così metto di tipo l'ottima mano che lì a guardiamo allora il gel quello per l'umidità ok partiamo da questo effettivamente al tappo che gira un po ma sembra bello stabile bioderma crealin h2o a condicellare struccante pelle sensibile viso e occhi ok 500 ml questo è un full size o squadra per scansionare qur ma lo facciamo subito così andiamo a vedere i prezzi allora me lo avvicino che non leggo solitamente nulla e allora bioderma 5 euro però è un full size e questo ci piace poi sempre nella nella sacchetto e che ma noi di organica olio corpo al ma noi quindi dovrebbe essere un profumo estivo è molto buona un olio corpo la confezione è un 50 ml quindi sarà un travel size e 9 euro ok effettivamente hanno fatto bene a metterlo nella scatola nella plastica perché questo trasuda un po io ma ci sta ultimo prodotto dentro questo sacchettino è quello che���anza è è l'hoνο da cura e questo è stato estivo che romanzioni usa tonalità e questo ‫ get un po l'ho culino dove a perdere che tirano un po l'ho caldera e questo rit glauben più in rimani va e il base days e quindi si può sapere che Ok, ci sta, tutta questa profumazione manoi molto ossiva, ci sta, mi piace. Adesso andiamo a quegli altri talotti e pesco dal più alto al più basso. ActiVilong, cocco d'amour, siero e schistra in uno. Non capisco. Water and oil, ok, acqua e olio. Deterge e pulisce. Ma per cos'è? Per i capelli, dry and textured eyes. Quindi è un tipo uno shampoo? Un siero? No, è un siero. Eh? Ma è al siero, papà. Eh, se pregine... È un siero per i capelli tre in uno. E' un dopo la siero. Ok, quindi è un 90 ml. E' questo qui. E andiamo a vedere. Non lo trovo. Cocco d'amour, eccolo, 5 euro. Quindi è un Travis Pikes anche questo. Andiamo avanti. Nuxe. Aero prodigioso. Shampoo, brillante, mirale. Quindi è un shampoo illuminante con olio di camellia. Della Nuxe. Ovviamente è un travel size, ma va bene per i piccoli viaggi. 30 ml. Mai provato. 2,50 euro. Perché comunque è un piccino anche lui. Ok. Andiamo sempre avanti così. Garanzia. Garanzia. Un marchio che ho conosciuto. Fluode, improbabile, dulce, invisibile, sun protect. E' una protezione per il viso 50+, invisibile. Resistente all'acqua. Anti-age. Senza effetto bianco. Ok. Questo è un 20 ml. Immagino che sia un travel. Vediamo un po'. Senza effetto bianco. E devo dire che è anche abbastanza leggera per essere un 50. Perché i 50 è quella più corposa. Il profumo è molto estivo. Comunque abbiamo detto 20 ml, che sarà un travel size, 1,45 euro. E ovviamente questi prezzi sono divisi. Ciao. Ciao. Ciao, eh. La pappa ce l'hai. Lei è che ce l'hai la pappa. Oltretutto mi hanno fatto un macello qua dietro. Perché hanno sparso tutto. Vuoi provare la protezione? No? Ok. Sta lì. E il prezzo ovviamente sono già suddivisi tra il full size e questo. Perché si dicono il valore della box. Quindi anche questo. Ok. Il video è molto estivo. Allora, prendiamo questo che lo vedo qua. È un crunch per i capelli. Di quelli che comunque sono in stoffa. Quindi perfetto per l'estate. E non spezzano i capelli. Sarà un... No, no. Non ha marchio, non ha niente. Però qui dice valore. Lissime. 7 euro. Ah però. È un bel crunch. Andiamo avanti. Vedo quattro cose. Però questa io non so se è omaggio oppure no. E lo scopriremo subito. Perché è una bustina. Una bustina di acido salicilico 2%. Per points noir. Quindi per i punti neri. Per il viso sarà. Questo è un ml. Quindi è una bustina. Sì. Sì. Non ha valore questa. Stavo leggendola. Ok. Non ha valore. Questo è un omaggio. Almeno questo. Poi tre prodotti restano. Questo è il Summer Stories. Stiro dopo sole. Idrata e lenisce. 95% di ingredienti di origine naturale. 25 ml. Quindi è un travel. E questo serve. Anche se non andiamo al mare. Non andiamo al mare. Comunque solo con questo sole. È leggero. È un bel profumo. Questo mi piace. Ok. Questo Summer Stories. Ah. Ho sbagliato. Il Summer Stories ragazzi. Il 25 ml. È un full size. Quindi immagino che sia per il viso. Basta. Perché se no. E viene 21 euro. Ricordiamoci che il totale della box è 36,90. Ma alla fine fa il totale. Perché qui restano due prodotti. Acqua e oro. Siero. Corpo idratante e infrescante. After Sun. Ah. Eccolo. Questo è per il corpo. Acqua e oro. L'Eleine Cre. Ok. Che è fresco. 100 ml. E questo è più più fluido. Si stende molto meglio. Però non è niente male. Ok. Anche bello idratante. Allora. 100 ml. Abbiamo detto. Acqua e oro. 16 euro. Quindi perfetto. Il viso e corpo. Si sta facendo una cultura di... Sta proprio addormentando. Sono molto interessanti. Io capisco. Ok. Ma andiamo con l'ultimo prodotto. Spero che non sia come l'altro. perché è Sofia Mabel e Shadow Code Tecleo 4 Palette. So che sono palette mini. Adesso le apriamo. E sono in full size. Quindi intanto andiamo a vederla. Che è carina. E poi vi dico il prezzo di questo ultimo prodotto. 16 euro. Perché queste sono full size. Quindi un pochino facendo i conti. Ricordiamoci che il prezzo è di 36 euro e 90. E il valore è di circa 90 euro. Quindi ci sta. Ma andiamo a vedere questa palettina carina carina. Perché sono tra shimmer e un opaco. Partiamo con questo. Bello. Molto bello. Wow. Andiamo col terzo. Voi ho già provato una palettina di questa. Ed ero rimasta entusiasta. Questo è l'opaco. Ci sta. Molto semplice. Ma comunque sia. Si fanno dei bei trucchi. Ci piace. Soprattutto in estate dove non andiamo. Anche qua. Non andiamo a mettere troppo colore. Però ci sta. Allora. Io direi di fare un recap veloce. Di tutta quanta la box di luglio e agosto. Di Bessim Francia. Perché poi andremo a vedere. Quando arriverà. Perché non è ancora arrivata. Quella italiana. Vedete. Ci sono due differenze. O che cosa. Quindi la palette. Il dopo sole per il corpo. La bustina omaggio. Il dopo sole per il viso della garanzia. Il crunch per i capelli. Il siro per i capelli 3 in 1. Che va a districare. Per il sole per il sole. Va benissimo. Lo shampoo della Nuxe. In traversal. Il gommage per il corpo al manomi. Ah già il. Qui ne abbiamo anche la. Dunque. Ah no. Questo non è il dopo sole. È il solare. Scusate. La garanzia è il solare 50+. Per il viso. Mentre questo è il dopo sole. Di Summer Stories. Il dopo sole per il viso. La confezione era molto stimmile. Ultimi due prodotti. L'olio a corpo. Sempre al manoli. Ed. L'acqua micellare. Della bioderma. Eccoci qua. E questa era tutta la box. Allora. Io. Ah scusate più. La borsa. Che bella per il mare. Per la spiaggia. E là. Che bella grande. Io sinceramente la userò per la spesa. Quindi. Scusate. Allora. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa box. Se vi può piacere come box per luglio e agosto. Ed effettivamente. Molto estiva. Sì. Ed. Noi con il viso in Francia. Ci troviamo a settembre. Anche perché. Con questo meteo. Che non commento. Ed. Io non ho mai caldo. Ma ho caldo. Quindi ho detto tutto. Ed. Non so quando riuscirò a registrare altri video. Vi farò degli shorts. Vi farò delle altre cose. Ed. Ci sarò. Ma non so come. E niente. Questo è stato utile. E vi do appuntamento. Al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.